Per me erano figure leggendari e quindi era impossibile vederli come un'entità umana. Era veramente un punto di riferimento per tutti noi. C'era proprio un'atmosfera di qualcosa di potentissimo che stava nascendo. Ciao a tutti! La musica che la gente voleva e che nessuno proponeva perché è ritenuta troppo estrema. Nella fine la passione ti restituisce quello che tu gli dai. Nella fine la passione ti restituisce. No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. It's DJing time! Yeah! Ciao, sono Albertino. Ciao Torino. Con me, Fargetta. Ciao a tutti. Molella. Ciao ragazzi. Prezioso. Ciao a tutti. Come avrete notato abbiamo fatto un ingresso molto discreto perché a noi non piace per niente farci notare e quindi pensavamo che questo ingresso fosse la cosa migliore. Vi state divertendo ragazzi? Io ho un ricordo bellissimo qui a Torino vent'anni fa, un DJ time a Capodanno. Non so quanti amici della cassettina c'erano quella sera e sono qui questa sera. La domanda che vi voglio fare è facciamo un po' di DJ time? Grazie a tutti. Ciao 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 a tutti. Sì! Uno per uno senza litigare 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 Direttamente da Torino Uno per uno senza litigare Uno per uno senza litigare Uno per uno senza litigare Perché finché vivrò Io e DJ Time vi ameremo tutti I 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 DJ Time vi amaremo tutti I DJ Time vi ameremo tutti I DJ Time vi ameremo tutti Parcetta is mixing for you! Do you think you're better off? Do you think you're better off? E gira tutto intorno alla stanza Mentre si danza E gira tutta la stanza Mentre si danza Precioso! Sulemani everybody! Precioso! 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 Allora C'è un momento che facciamo sempre quando c'è il DJ Time Che è il momento in cui vi chiediamo di accendere la torcia del vostro smartphone per illuminare il Palalpi Tour di Torino noi spegniamo tutto e voi accendete le vostre torce lo so che ce l'avete il telefonino anche voi siturine non so dove l'avete infilato in questo momento bellissimo così Giorgio va bene? è il momento Illumina! Trolli che Balcani che mentre Danzatori bulgari A piedi nudi sui bracciardi ardenti E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza Danza E gira tutta la stanza mentre si danza E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza E gira tutta la stanza mentre si danza Sì Allora negli anni 90 un gruppo di giovani ragazzi di Torino la vostra città ha conquistato il mondo La loro canzone è stata inserita anche nella colonna sonora del film Iron Man e sono qui con noi gli A465 Buonasera a Torino Bracci in aria tutti così Bracci in aria Torino e insieme si spinge il trallo Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Torino Voce! Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Yeah. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Mimì e Cocò a Ibiza. Che vera gira. Però quella è una serie web. Avete notato l'avvicinamento di Mimì e Cocò alla musica da discoteca? Siamo a un passo. Io Linus andiamo a Tomorrowland. Vero Filippo? Diggio da tuo padre. Ok. Grazie ragazzi. A voi. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ci sentiamo domani. Uh.